Come token permanente in ePassan Manager, utilizzando un lettore di gestione, iniziare facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Cliccare quindi su Profili di accesso alla porta, e continuare a selezionare l'utente che si desidera modificare. Una volta selezionato l'utente, fare clic su Aggiungi una credenziale. Selezionare il tipo di credenziale e posizionare il token sul lettore di gestione. Il codice e il colore del token si aggiorneranno automaticamente sullo schermo, indicando che l'aggiunta di un nuovo token è avvenuta con successo. Infine, fare clic su Salva prima di uscire.